Musica E con grande emozione il vincitore della gara, nome e cognome? Malimiro da Ascenzo Malimiro da dove vieni? Bellante, Teramo Da Teramo a Cesenatico per partecipare alla nuova Colli? Sì, ormai questo è un evento storico per l'ambiente amatoriale Io è il secondo anno che vengo, l'anno scorso sono partito in griglia gialla e quest'anno mi hanno dato la griglia rossa, ero venuto per fare bene e è arrivata la vittoria Quindi noi acclamiamo questo vincitore che è bellissimo vedervi vincere vedervi arrivare tutti insieme ma soprattutto un vincitore proclamato qui su BikeDay.tv Ma non ti vedo stanco? Siamo partiti, no, ci siamo alzati alle 4 perché io facevo parte di quel gruppo di ciclamatori che hanno fatto il prelievo del sangue è gestita molto male perché comunque si poteva fare benissimo ieri sera Il doping è giusto che viene combattuto però secondo me si dovrebbe fare in modo diverso Cioè qui vengono controllati sempre i soldi No, a parte chi vince ma soprattutto gli amatori di testa della federazione Secondo me i controlli vanno fatti a sorpresa nelle gare sia a corte, nei circuiti che nelle granfonde però bisognerebbe pescare nel gruppo a fare dei controlli non stare lì perché per esempio quest'anno è già la quarta volta che do il sangue perciò controllano a me e poi ci sono centinaia di ciclamatori che fanno quello che vogliono e non vengono mai controllati Grazie mille!